Musica Si è svolta il 27 gennaio presso la sala Celestino V dell'Arcidioces di Campobasso Boiano la giornata della memoria. E' intervenuta la signora Susanna Cassuto Evron che ha presentato il suo libro dal titolo I piccoli non fanno domande, il signor David Cassuto, vice sindaco di Gerusalemme, capo e presidente della comunità ebraica e il presidente del consiglio regionale, avvocato Michele Picciano. Il 29 gennaio presso la sala San Pietro Celestino della cura Cidescovile di Campobasso si è svolta la giornata dell'educatore per gli insegnanti di religione. E' intervenuto Don Francesco Labarile Salesiano. All'incontro era presente anche Su Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini. Musica Siamo stati sul set televisivo della trasmissione Sulla Via di Damasco in compagnia di uno dei registi Alessandro Rosati che ha intervistato il nostro acivesco Monsignor Giancarlo Bregantini. La trasmissione andrà in onda il 19 febbraio alle ore 10 e 15 su Rai 2. Diocesi News vi dà appuntamento alla prossima settimana. Musica Musica Musica